Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è martedì 25 gennaio 2011 e vedete bene il titolo del video, bellezze all'osso. Io ho ricavato da un giornale le foto di queste due fotomodelle. Vedete che una è davvero una bellezza all'osso, la vedete, vero? Quella magrolina di profilo. Vedete che si possono contare le costole, le costole del suo lato sinistro. L'altra la mettono tra le bellezze anoressiche, ma io non direi proprio che sia una bellezza anoressica. Certo non corrisponde ai canoni estetici della bellezza così come noi la concepivamo sino a non molti decenni fa. Nel caso concentriamoci di più su questa magrolina qua, molto magrolina. Non so chi siano queste attrici, cari amici, va bene. Comunque sono due rappresentazioni visive del modello erotico occidentale di questi ultimi tempi. Questo video, cari amici, come un gran numero di video che trovate su questo canale, nasce dalla sollecitazione di un amico blogger che vive in Giappone. Lui mi manda il suo nome, il suo cognome. Io mi limito a fargli vedere il suo nickname. È semplicemente Danieli. È un nickname in ogni caso che non ha niente a che vedere con il suo nome e il suo cognome. Vediamo un po' cosa mi scrive. Dunque, ci sono i preliminari. Poi mi dice, non so se lei lo ricordi, ma io ho avuto il piacere di contattarla già in precedenza, lo scorso anno in novembre per l'esattezza, le chiesi delucidazioni sulla figura del demiurgo nel cristianesimo gnostico e sulla eresia catara, questione alla quale lei rispose con il video Dio e il demiurgo. Vabbè, me lo ricorda l'amico che ho fatto questo video. Io non me lo ricordavo più perché ne ho fatti così tanti di video che è quasi impossibile ricordarti i titoli e anche gli argomenti. Quindi a questo amico gli avrei già risposto con il video intitolato Dio e il demiurgo, anche in riferimento alla eresia catara, catara o al vigese. Poi, con questa lettera, con questa mia lettera vorrei chiederle di approfondire un argomento che lei ha già sfiorato in precedenza, sì, può darsi che l'abbia sfiorato in precedenza, anche questo non lo ricordo, ma può darsi che ci sia un argomento su queste bellezze all'osso, sull'anoressia, credo, può darsi che ci sia. L'argomento è il canone estetico della donna ai nostri giorni e mi riferisco in particolare al modo di immaginare la bellezza femminile da parte dei più. Se fino a una quarantina di anni fa si preferiva la donna in carne, non grassa ma di prosperose proporzioni, oggi si tende invece a idealizzare la donna magra. Spesso infatti si vedono modelle o subrette sfoggiare giri di vita e gambe eccessivamente asciutti. Questo tipo di fisico femminile sembra riscuotere più consensi fra il popolo maschile odierno di quanto non faccia il più arcaico fisico femminile di proporzioni generose. E continua in questo modo, continua, vedevo accennare, dice che vivo in Giappone e che anche in Giappone è andato affermandosi questo nuovo modello estetico della donna magra, quasi anoressica, una donna alle cui fattezze si avvicinano quasi alle fattezze maschili. Anche in Oriente perché lui ha notato tra l'altro che io in diversi video ho avuto modo di evidenziare che il Grande Oriente, il Grande Oriente induista o induistico, il Grande Oriente buddista o buddistico, il Grande Oriente di Confucio, il Grande Oriente di Tao, anche se non è stato convertito alle religioni patriarcali occidentali di Yahweh, di Cristo e di Allah, però è stato convertito alla scienza occidentale, la scienza occidentale che è una diramazione delle religioni patriarcali occidentali, quindi in una maniera o nell'altra l'Occidente si è imposto culturalmente sull'Oriente in una maniera o nell'altra, una maniera sarebbe stata quella religiosa e l'altra maniera invece è stata quella scientifico-tecnologica, tanto è vero che producono come noi, anche l'India l'India degli induisti, anche l'India dell'induismo e la Cina di Confucio e di Tao, anche il Giappone e producono come noi, hanno la stessa medesima attrezzatura scientifica-tecnologica di noi occidentali e ci fanno concorrenza, è una concorrenza durissima tra l'altro e anche là mi dice l'amico dove c'è lo stesso modello, ma sì, sono usciti negli ultimi anni dei film bellissimi giapponesi o cinesi, dove la donna, le attrici avevano la stessa silhouette delle bellezze attuali occidentali, ma anche in filiformi, al limite dell'anoressia, va bene, cerchiamo un po' di fare una inquadratura generale della questione, io una volta vi feci vedere già, vedete questa è la Leda, la Leda è la regina di Sparta, vedete questo dipinto mi pare che sia di Leonardo da Vinci mi pare, la Leda col cigno, questo cigno sarebbe Giove, siccome Leda, la regina di Sparta, Leda, mamma di Elena, mamma di Elena, mamma di Castore e Polluce, mamma di Clitenestra e questa regina di Sparta amava tanto i cigni, allora Giove, quel furbacchione di Giove si trasformò in un cigno e fecondò Leda, Leda fecondò, quindi il papà ufficiale dei figli di Leda, quattro, era suo marito, ma quello reale era Giove, quindi ci fece un video apposito su questa faccenda, su Elena, quindi Elena risulta figlia di questa bella donna, questa è la bellezza, tra l'altro la dipinse così Leonardo da Vinci nel 1500-1550 e Leonardo da Vinci magari se ne intendeva e vedete bene le fattezze, non si possono dire che siano le stesse fattezze cari amici, vabbè. E allora cosa è mai successo per arrivare al punto che l'Occidente del welfare, l'Occidente ricco, prosperoso sul piano economico e però invece di mostrarci delle bellezze femminili anch'esse belle e prosperose e come sono state le donne in tutti i millenni precedenti del patriarcato, ma anche del patriarcato, anche del patriarcato. Allora per rispondere a questa simpatica domanda mi devo sempre rifare a questo romanzo storico mitologico La stirpa del serpente dove appunto si parla del passaggio dal patriarcato al patriarcato. Vediamo un po' se riesco a dire le cose sinteticamente evitando di ripetermi troppo. Allora abbiamo in patriarcato abbiamo la donna prosperosa in patriarcato e la potenza della donna in patriarcato, in patriarcato c'erano solo le dèi femminili, non c'erano dei maschili, solo le dèi, perché in patriarcato si riteneva che le donne facessero i bambini per conto loro, d'accordo? Cioè che non ci fosse bisogno del concorso dell'uomo perché in patriarcato non era ancora stata scoperta la funzione dello sperma, ma per chi crede che questa affermazione possa essere una stranezza, beh io dico caro se tu ritieni che questa sia una stranezza di Serafino Massoni, vatti a vedere il video di Serafino Massoni intitolato Lo sperma di Maria Gimbutas, lo sperma di Maria Gimbutas, ritrovate chiaro e tonto questa grande archeologa vivente, studiosa del passato materiale, parla appunto della funzione dello sperma. Se non si sa che quando c'è l'unione del piacere, però non si sa che lo sperma serve in collaborazione con la donna a fare i bambini, il piacere è staccato dalla perpetuazione della specie. Il piacere è molto bello perché non è un mezzo per, ma è fine a se stesso. Oh ma che differenza che c'è cari amici tra matriarcato e patriarcato. In matriarcato il piacere, il piacere, il piacere sessuale era un fine, non era un mezzo attraverso il quale perpetuare la specie, perché a perpetuare la specie ci pensavano già le donne per conto loro e lì in matriarcato non c'erano problemi particolari di estetica, perché la donna lì appunto si riteneva che i figli li facesse per conto proprio. Una donna tanto più era da ammirare, da venerare, da onorare quanti più figli faceva e fare tanti figli, la predisposizione anatomica del fare tanti figli è un bacino bello grande, cosce abbastanza robuste, è un seno prosperoso. I canoni della bellezza femminile in matriarcato erano rapportati alla fecondità e le donne erano venerate perché erano fecondi, perché perpetuavano la specie. Gli uomini avevano solo la funzione di regare piacere e di dare un proprio contributo per la produzione del cibo, ma erano svincolati dalla perpetuazione della specie. Poi ci fu una sventurata scoperta, sì doveva avvenire la scoperta della fusione dello sperma, così poi come è avvenuta la scoperta della bomba atomica. Anche la bomba atomica è stata scoperta anche se non è una bella cosa e adesso che la bomba atomica è stata scoperta non possiamo più dire no, non l'abbiamo scoperta. E così la funzione dello sperma a un certo punto è stata scoperta ed è andato il patriarcato perché gli uomini ovviamente rivendicavano la paternità, la paternità per rivendicare la paternità dei bambini bisognava dare una regolatina all'attività sessuale, una regolatina ma di quelle forti è come, che so, verginità, obbligo di verginità prematrimoniale, obbligo di fedeltà e coniugale, infibulazione, critoriolectomia e poi pure il timore della lapidazione in caso che la moglie avesse fatto l'adultera perché dentro il corpo della donna doveva entrare solo lo sperma di un solo uomo, solo così si poteva avere l'accertamento della paternità, nasce l'accertamento della paternità, il pater familias, io ce l'ho spiegato tante volte che la prima forma di proprietà privata è quella che l'uomo rivendica sui propri figli, tant'è vero che la parola latina proletario usata ed abusata tra l'otto e il novecento per indicare coloro che vanno a lavorare nelle fabbriche, nelle manifatture, l'operai e il proletario, ma il proletario significa, il suo significato sulla base dell'etimo, proletario significa colui che come unica forma di proprietà privata ha i propri figli, tante ferrovi e nell'antichità i padri potevano vendere i figli e le moglie, anzi le moglie le potevano pure lapidare, c'è un mio video in merito intitolato Pater Familias in Roma Antica. Bene, allora vediamo un po' cosa succede, vedete cari amici questa magrolina, questa diciamo è pure anoressica questa qua, cosa succede però? Che quando arriva il benessere, quando arriva il benessere, il benessere vuoi fare la società opulenta, d'accordo? La società dell'opulenza, l'opulenza è tutto materiale, ma a questo mondo non si può avere tutto, non si può avere l'opulenza spirituale e poi l'opulenza pure materiale, bisogna fare una scelta, scegliete voi se preferite l'opulenza ideologica o se preferite l'opulenza materiale, scegliete voi, scegliete, nessuno vi proibisce di stare o di qua o di là, arrivata l'opulenza, la società opulenta e le cose cominciano a cambiare perché una volta soddisfatti i bisogni primari, quelli strettamente legati alla sopravvivenza biologica, proprio siccome a questo mondo non si può mai avere tutto, sorgono nuovi bisogni che sono i bisogni superiori, tra virgolette espirituali, d'accordo? E allora la donna, le donne cominciano a rivendicare la parità, parità e a lavorare come gli uomini, ma a questo punto si sentono un po' strette nel ruolo di fattrici, fattrici sulla base della volontà maschile, cioè fattrici per dare al compagno che sia un compagno o che sia un marito per dargli un erede, che porterà poi il nome del compagno, un erede, e le donne cominciano a rivendicare prima una parità giuridica e lavorativa nei confronti dell'uomo, ma poi sentono che c'è qualcosa che non quadra con questa faccenda che l'uomo ci mette un cucchiaino di sperma e loro ci mettono nove mesi di cantiere, nove mesi con la metamorfosi, perché c'è una brutta metamorfosi tra l'altro che può lasciare delle conseguenze anche post-aparto, sul piano estetico, e allora il canone della bellezza delle donne non è più quella dell'affattrice, la donna ben messa, fianchi larghi, natiche larghe, ventre prosperoso, cosce robuste, quindi è sceno abbastanza prosperoso per contenere tanto latte, e no, c'è il rifiuto, c'è un rifiuto, dice noi vogliamo, abbiamo conseguito la parità con gli uomini, lavoriamo con gli uomini, al ministero della pubblica istruzione, nei centri di ricerca, nelle forze armate, e adesso noi non siamo tanto contenti, contenti di essere delle fattrici, vabbè continueremo a fare i bambini, ma anche il nostro aspetto estetico dovrà assomigliare il più possibile all'aspetto estetico dell'uomo, ed ecco che in un certo senso, proprio per il fatto, adesso, dell'opulenza, dell'opulenza del benesse della società, noi vediamo queste donne che miracolosamente assumono un aspetto fisico che assomiglia a quello dell'uomo, quasi a, come dire, a eliminare le distinzioni di genere o a renderle il meno vistose possibili, o a rendere le distinzioni fisiche di genere il meno vistose possibili. Come se la donna, magra, filiforme, ai limiti dell'anoressia, potesse dire a se stessa, ecco, non ho più l'aspetto di una fattrice, fattore, fattrice, no, la fattrice è l'animale che fa tanti figli. C'è il rifiuto del genere femminile? effettivamente, cari amici, non è simpatica la faccenda, sapete, mettetevi nei panni di una donna voi, e io vi ho sempre detto che non ci può essere pace fra uomo e donna, non ci può essere pace, un sordo rancore c'è, ma è naturale, e vi ripeterò all'infinito che non è una cosa semplice da accettare che tu metti nel mio corpo un cucchiaio di sperma e che io poi debba fare tutto il resto del lavoro, cioè lavorarci sopra nove mesi e poi tutti gli anni che seguono per far contento te, così ti puoi dire che sei papà e poi perpetuare la tua stirpe. Quindi i canoni di bellezza dai oggi e dai domani e adesso sono diventati questi, che la donna vuole avvicinarsi sempre di più all'aspetto fisico dell'uomo, è una conseguenza della raggiunta parità tra uomini e donne sul piano giuridico. Certo, resta sempre il fatto che sono le donne a fare i figli, gli uomini ci mettono solo quel cucchiaino di sperma, tutto il resto lo fanno le donne, ma anche qua però si può delineare una certa linea, già tanti hanno esaminato gli sviluppi possibili e ulteriori della faccenda, si vanno moltiplicando i centri di fondazione artificiali e chissà che un giorno le nostre simpatiche compagne non possano liberarsi definitivamente dai pesi della maternità, nel senso che tutto avviene nei centri di fecondazione, dove verrà fatto tutto nei centri di fecondazione, verrà portato il gamete femminile, il gamete maschile, poi ci sarà l'incubatrice e quindi si raggiungerà quello stato già delineato da Platone, da Platone nella sua meravigliosa opera sull'amore, dell'ermafrodito originario, dice in un lontano passato, dice Platone, gli uomini erano contemporaneamente uomini e donne ed erano felici, erano fintavolo benone, gli dèi invidiosi e allora ha deciso di spaccarli tutti a metà, spaccare tutti a metà e da ogni da ogni essere umano di allora che era emafrodita e vennero fuori due esseri umani, un maschio e una femmina e dice da quel momento ogni metà va a cercare la propria metà e soltanto quando l'ha trovata la propria metà è contento. Si va delineando un indirizzo? Qua calmiamoci però, la storia è fatta anche di ricorsi storici e non è detto che ci si arrivi al momento in cui la donna davvero si sarà liberata degli oneri della maternità, perché sono tutti i suoi gli oneri della maternità, tanti giovani mi dicono eh ma oggi i giudici stanno tutti dalla parte delle donne e quando c'è una separazione legale a un divorzio la donna si prende l'assegno, si prende la casa, si prende il mantenimento dei figli, ma che devono fare i giudici? I giudici devono fare la giustizia e la giustizia ti dice chiaramente che l'onere l'onere della donna nella perpetuazione della specie è del 95%, quello dell'uomo del 5% perché ci mette soltanto qualche cuccia di sperma e tutto il resto ce lo mette chiaro che è la donna che va sostentata e se un uomo non vuole finire in magistratura e sentirsi dire da giudice paga per il tuo sperma, paga, beh sia conseguente non usi lo sperma, tutto qua, va bene? Ma una volta che tu lo sperma l'hai usato devi pagare caro, per quanto tempo? E per tutta la vita, per tutta la vita, un squad morto ancora, così vanno le cose. Ecco soprattutto da parte della donna che è con lei che nella perpetuazione della specie in patriacato ci ha sempre rimesso, sempre rimesso, ci ha messo tutto e c'è un rifiuto, un rifiuto della distinzione di genere, come a poter dire siamo stanchi di portare noi donne sulle spalle del peso della perpetuazione della specie, va bene? E quindi assumono questo aspetto filiforme, filiforme, una non direi proprio però, ma l'altra effettivamente è al limite del patologico, va bene? Ecco quale caro amico che mi iscrivi dal Giappone, ecco quale è, al fondo c'è sempre la questione dello sperma, il canale di Serafino Massoni è proprio dedicato a questa faccenda, alla scoperta della funzione dello sperma e questo canale si basa proprio su questo romanzo storico-mitologico, si basa proprio sulla scoperta della funzione dello sperma, ma è stato quello il peccato originale, l'ho definito tante volte il peccato originale, come noi oggi in caso di guerra termonucleare dovremmo addebitare il peccato originale alla scoperta della bomba atomica e così noi qua per tutti questi fenomeni sociali non possiamo far altro che addebitare la causa alla scoperta della funzione dello sperma, se non ci fosse stata la scoperta della funzione dello sperma, ci doveva essere prima o poi, come prima o poi c'è stata la scoperta della bomba atomica, ma se non ci fosse stata noi si vivevano in matriarcato, le donne pensavano di restare incinta perché lo voleva la dea madre, la grande madre, va bene, e gli uomini svolgevano con la funzione secondaria di piacere e basta, anche di raccolta del cibo e non nasceva la famiglia monogamica patriarcale e nell'uomo rivendicava la paternità e quindi la proprietà privata dei propri figli e della moglie, non desiderare la roba ad altri, non desiderare la donna ad altri e quindi non nasceva il patriarcato, non nasceva la proprietà privata e non nasceva il patriarcato, l'umanità che vuole conoscere, va bene, vuole conoscere, l'umanità ha voluto conoscere, non fumo a vivere come brutti, ma per seguire virtute e canoscenze, per seguire virtute e canoscenze ci teniamo la scoperta della funzione dello sperma e ci teniamo pure la scoperta della bomba atomica, cari amici, ci va bene e d'altra parte non c'è l'alternativa. Qual è la soluzione? Ma no, soluzioni non ci sono, cari amici, l'importante è cercare di conoscerle queste cose e conoscendole almeno si usa un comportamento un po' più guardingo e si capisce che quando ci si mette con una donna o de facto convivenza o de jure con matrimonio si deve sapere in che consiste questa unione, capito? C'è di mezzo lo sperma, c'è di mezzo cari amici e poi se tu usi lo sperma e lo metti nel corpo di una donna e poi i giudici danno ragione alla donna, capito? devo stare attenti ad usare lo sperma, cari amici, va bene? È un liquido per tutto particolare, tenace e pervicace e così, cari amici, io ho terminato questo excursus, va bene? E posso dire che qua concludo, d'accordo? E caro amico, potremmo andare molto lontani, caro, su questo discorso ti potrei far vedere, ma tu lo puoi fare da solo, tutti i quadri con le belle donne prosperose, per esempio Sandro Butticelli, la primavera di Sandro Butticelli, la Venere che nasce dalla schiuma del mare, sempre la nascita di Venere, la primavera sempre di Sandro Butticelli, ma che quadri meravigliosi che ci sono, che quadri meravigliosi, cari amici, e vabbè, il corso dei tempi è questo, cari amici, il corso dei tempi è questo, eccolo qua il corso dei tempi, d'accordo? Va bene, allora cari, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massone.